Non sono mancate però le occasioni da gol, ci sono state anche diversi legni, ce li racconta, andiamo a sentire Maurizio Compagnoni. Il pallone è scaricato sullo Slovacco, posizione regolare, il colpo di testa, Giulio Cesar, strepitoso su Denis. Palla all'interno dell'area per Lucio, che gira, poi cerca l'acrobazia Cambiasso, Montari la sinistro, incrocia dei pali, straordinario il tiro di Montari, ma non è finita, alimenta l'azione offensiva strada, il cross basso De Santis, che grande partita. Gargano in verticale, velo di Denis, risonito di Quagliarella, parte il tiro! Conclusione improvvisa, splendida di Fabio Quagliarella. Grande balle in profondità, lo scatto di Denis, al centro c'è Quagliarella, il cross retrato arriva Amsic, Santon chiude. Accelera Milito, non lo mola Campagnaro, duello tutto argentino, pallone centrale, che si gira, attenzione, stradere il tiro, De Santis in due tempi. Gran colpo di intacco di Milito, grande giocata, l'inserimento di Marica, pallone, a limite, attenzione, Vandev, Vandev, parte il tiro, De Santis! Attenzione, Michael, in verticale, Milito, Milito! Si oppone ancora a De Santis. La sinistra di Aronica, cercare la testa di Denis, la sponda di petto, Quagliarella al volo, paro, sotto porta, la palla alta sopra la traversa, incredibile palla goal per il Napoli. La sciupata a Denis! Ancora Quagliarella, quasi in un zonotiro, provo Quagliarella, diventa un assist, un ripallo, esce Cicero Cesar, la porta è vuota, Samuel chiude! Accelera Aronica, in seguito da Marica, c'è Denis solo al limite, arriva Amsic al volo! Palla fuori, questa volta Cicero Cesar era immobile, ancora una grande sponda di Denis.